Io non mi meraviglia purtroppo che lui faccia questo, siamo noi che abbiamo generato questo mostro, quindi l'abbiamo generato noi lui. Il problema è che purtroppo siamo stati noi ad avere abituato questa gente a operare in un certo modo nel passato, perché lui da lì tenere fuori e poi l'abbiamo fatto sulla stessa provincia e da altre parti del comune.